Sembra un febbraio qualsiasi, solo più freddo e più affamato. Il 23 mattina le ragazze più giovani e le vecchie operaie escono dal portone della filatura di cotone Krasnayanit, filo rosso. Esasperate dal pane che manca e dai prezzi che aumentano, sono in sciopero. Girano l'angolo, sboccano sul Prospect Sansonieschi, formano un corteo. Puntano solo a raggiungere il centro città. Non sanno che stanno per entrare nella storia. Alle operaie si uniscono gli uomini dell'officina Putilov che da settimane chiedono un aumento del salario. Poi gli studenti, le madri di famiglia che reclamano cibo, i passanti infuriati con gli speculatori. I dimostranti diventano migliaia, urlano contro il governo. Quando lasciano il quartiere operaio per entrare in centro, trovano il ponte Liteini chiuso. Davanti a loro un muro di gendarmi e poliziotti. E i cosacchi a cavallo, le truppe zariste scelte per ogni repressione. Ma il corteo avanza e i cosacchi non caricano. Non c'è lo scontro tra esercito e mondo delle fabbriche. Sono due pezzi di popolo, uno senza più appartenenza e l'altro ancora senza ideologia. I soldati sono in gran parte giovani che temono di essere rispediti al fronte. Le operaie, hanno deciso da sole di protestare, scavalcando le formazioni rivoluzionarie. La folla arriva fino alla Duma e davanti al Parlamento si ferma. Gli uomini hanno in mano bastoni, gli slogan diventano politici, c'è chi urla contro la guerra, spuntano le prime bandiere rosse. Davanti al ponte chiuso e sbarrato, uomini e donne scendono sul letto della nieva gelata, camminano sul fiume e si radunano in piazza Znamenskaya. I soldati controllano la folla. Arrivano notizie di negozi saccheggiati, tram bloccati, carrozze rovesciate. Lo zar continua a sottovalutare le richieste urgenti di riforma per salvare il salvabile del presidente della Duma, Michele Rozianco. Nicolai II decide di partire per il lontano quartier generale di Mogiliof, abbandonando una capitale che si sta mangiando l'impero e decretando inconsciamente la sua resa. Il 25 febbraio agli operai di Viborg si uniscono i bolshevichi e i socialrivoluzionari. A mezzogiorno davanti alla cattedrale di Kazan i gendarmi aprono il fuoco. La folla lancia bottiglie e spara il capo della polizia a Salfieyev. Ma la svolta avviene in piazza Znamenskaya quando i cosacchi passano con gli insorti. La sciabola di uno di loro taglia la testa a un poliziotto che puntava la pistola sulla folla. La sommossa è diventata rivoluzione. Sarà l'esercito cambiare le sorti della partita. Le caserme cominciano ad ammutinarsi. Per prima si ribella la quarta compagnia del reggimento Pavloschi. Poi le altre. È diserzione di massa. Nel carcere della fortezza dei Santi Pietro Paolo, che era il carcere dei prigionieri politici durante il periodo zarista in attesa di giudizio. Qui c'è un cambio di scena perché il 27 di febbraio vengono incarcerati 19 soldati del reggimento Pavloschi, soldati ufficiali che si erano ribellati ed erano passati dalla parte del popolo, rifiutando la repressione da parte dell'esercito. Vengono liberati il 28 dagli insorti quando il bastione del carcere passa dalla parte dei rivoluzionari. che finiscono qui dentro, nelle loro stesse celle, i ministri dell'ultimo governo zarista. Diventata rivoluzione, la rivolta quasi chiede di essere guidata e al suo quinto giorno cerca il cuore politico della Russia. Lo trova qui dentro. Il Palazzo Tauride diventa il centro del potere, della sovranità nel momento del passaggio tra l'impero zarista e la rivoluzione. E questa è la sala della Duma, la sala del Parlamento e immediatamente in quei giorni di febbraio si dà vita a un potere che per la prima volta non è nominato e scelto dallo zar ma è scelto dalla Duma. Nasce un governo provvisorio nell'attesa della Costituente che volevano tutti, sia i soviet che i deputati della Duma e questo governo è presieduto dal principe il Vov. In questo palazzo, questo governo compie subito degli atti importanti. L'amnistia per tutti i reati politici e per i reati religiosi, la confisca delle terre che appartenevano alla Corona, l'abolizione della pena di morte e soprattutto decide di continuare la guerra. Tutto attorno a quest'aula parlamentare che si presenta come era allora, c'era un bivacco di contadini, di operai soprattutto e in particolare di soldati. Nel grande salone Caterina, enorme che poteva contenere fino a 5.000 persone, c'erano viveri, un deposito di divise militari, di munizioni, soprattutto qualcuno dice che c'era addirittura un cannone. In una sala vuota c'era, non si sa come, non si sa perché, una gigantesca macchina da cucire. Brusio, rumore dappertutto e intanto la Duma cercava di ridare alla Russia quel potere che la rivoluzione stava disconnettendo dall'impero e dalla dinastia zarista per entrare in una fase nuova. In questo stesso palazzo si fronteggiano i due nuovi poteri, la Duma appunto che ha in mano l'esecutivo e il Soviet, appena nato, che controlla la guarnigione di Pietrogrado e chiede obbedienza a tutto l'esercito. Oggi nella sala vuota stanno montando un set televisivo, una ballerina a prova da sola, con la musica dello schiaccianoci che esce dal telefono, immortale, e sembra dire che tutto è stato soltanto una parentesi, anche quel febbraio di fame, di rabbia, di ferro e di fuoco. Oggi nella sala vuota stanno montando un'esercizio, 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 un'esercizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.